e io spero di riuscire a portare a termine questa fiction e che sia una cosa nuova e poi casomai ti inviteremo con piacere quando passo a Milano io qui ho famiglia tanto ci vediamo fra vent'anni la mamma, le sorelle si ma nel fiction non avete inserito scene di golf un po' no? no ma chissà che si può inventare qualcosa eh comunque andate a visitare Siracusa che è bellissima assolutamente c'è questo nuovo campo da golf insomma merita ciao a tutti va bene allora io metterei la canzone